Servo a tutti ragazzi, io sono Joker e vi do il benvenuto alla quarta puntata di Rush B No Stop, la serie dove vi andrò a illustrare diverse tattiche che potete effettuare col vostro team di Counter-Strike Global Offensive. Oggi rimaniamo su Mirage per andare a vedere il default in B. La tattica per i principianti non è affatto semplice, quindi ci sarà parecchio da discutere e bisognerà allenarsi un pochetto e imparare ad effettuarla tutti insieme, appunto all'interno del team, per avere qualche tipo di successo. Ma non perdiamo altro tempo e lanciamoci subito con un overview della mappa per capire in cosa consiste esattamente questa tattica. Ed eccoci sul nostro site B di Mirage. Quindi, andiamo a cominciare a discutere di questa tattica. Ci sono diversi modi per effettuarla, ma noi andremo a descrivere quello più semplice in assoluto. Quindi, come andremo a disporre gli uomini prima di tutto? Anche qui, diverse scuole di pensiero, diversi modi in cui potete farlo. Quindi, normalmente si andranno a posizionare due uomini in apartment, o due, o tre. Uno o due uomini in upper mid è un uomo che andrà a pushare dall'apartment verso underpass per andare a dar manforte ai suoi compagni in short. Uno dei uomini in upper mid può non andare lì, ma andare a raccare qui, nella zona di slope, per bloccare eventuali rotators. Ma non andremo a parlare oggi. Sappiate soltanto che è una possibilità, comunque oggi rimaniamo sul semplice. Quindi, che granate vi serviranno? Per prendere mid saranno molto importanti le granate che andranno a bloccare connector e window. Due posizioni importantissime. Window ci potrebbe essere l'opera avversario, in connector vi potrebbero eliminare nel caso decidesse di andare a pushare short. In questo modo tagliate fuori i ragazzi, i CT di A, dal vostro push, finché le smoke non scompaiono. Quindi, fatto questo, cosa andrete a fare? Gli uomini cominceranno in short e cominceranno a pushare appunto in quella direzione, seguiti dal player in underpass. Se avete tre uomini in short, potete lasciarne uno in ladder room, dove può eliminare eventuali hopper e comunque fermare i rotators. È una posizione molto molto importante, addirittura pushare da dietro e arrivare fino a market per prendere gli avversari alle spalle. È un'idea da non sottovalutare affatto. Gli altri due, invece, entrano in short con l'ausilio di qualche flash, nello stesso momento nel quale i due uomini da apartment entreranno all'interno del site. Quindi, uno si lancerà da qui, l'altro, invece, dalla finestra. Nello stesso momento, i due ragazzi saranno ormai arrivati in short e gli daranno mano forte e eliminare tutti gli avversari. Due smoke sono abbastanza particolari per il b-site. Si può effettuare una smoke, ve la farò vedere in game, qui e qui, per bloccare la visione degli eventuali CT posizionati appunto in questa posizione. È dell'opera che potrebbe stare qui e colpire gli uomini nelle finestre. Però non sono fondamentali. Se ve le potete tenere, sarebbe meglio, magari fate solo questa qui, che blocca la visione della finestra. Per poi, una volta preso il site, andare a piazzarle qui e qui, per difendervi da un eventuale retake. Perché vi ricordo, un retake nel b-site è complesso da affrontare. Possono attaccarvi da questa zona, dalla zona di market, dalla zona di apartment e dalla zona di short. Insomma, sono un bel po' di angoli da controllare. Se vi è rimasto un ulteriore smoke, una volta appunto preso il site e presentata la bomba, potrete anche andare a smokeare la zona di short. A meno che voi non vogliate lasciare il player qui in ladder room e in quel caso sarà lui a occuparsi di eventuali giocatori in short. È interessante, appunto, nel caso sia questa smoke sia assente, mettere due player a difendere short, se ce li avrete tutti i cinque in vita. Uno in ladder room e uno qui dietro la scatola, per permettere di avere un crossfire. Insomma, tutti i player che passeranno da qua moriranno senza dubbio. E niente, lanciamoci subito in game per vedere le smoke necessarie per effettuare questa tattica. E qui vediamo la prima smoke, che sarà quella che andrà a smokeare mid. Ci posizioniamo accanto allo scalino, miriamo poco più a destra di quell'oggettino di regno, continuiamo a camminare crociati, appena incontriamo il muro, facciamo un jump throw. La smoke non è facilissima, allenatevi un pochetto, però è molto efficace e andrà sempre a bloccare la zona di mid, quindi la visione dell'opera avversario. Invece, per la smoke in connector, ci posizioniamo qui, miriamo in basso, al centro di questa tenda, e facciamo un semplice jump throw. La smoke andrà a bloccare la visione degli uomini in connector, ma non sarà un blocco totale. State molto attenti, perché gli uomini in connector, con un po' di difficoltà, vi potranno continuare a piccare da questa zona. Quindi, attenzione, attenzione, cercate di piccare prima voi con una WP, magari. Per quest'altra smoke, invece, ci andiamo a posizionare davanti alla porta, andiamo a mirare poco a destra di quel cornicione, e semplicemente rilasciamo la smoke, senza nemmeno sortare. Questa smoke andrà a bloccare la porta di market, e quindi impedia la visione agli avversari che arrivano da quel luogo. Per quanto riguarda, invece, la smoke, che andrà a bloccare la zona di window, sempre di market, bisogna posizionarsi sotto la lampada, andare a mirare il centro della finestra, e salire fino alla linea dello stesso cornicione di prima. Facciamo un semplice release, e la smoke, dopo aver rimbalzato, andrà a bloccare la visione degli uomini nella finestra di market. Come potete ben vedere, non avranno la possibilità di beccarvi, nel caso voi andiate a passare da appartamenti. Spero, ragazzi, che il video vi sia stato utile. Queste tattiche cominciano ad essere, pur essendo basiche, un poco più complesse. Quindi, mi raccomando, provate con il vostro team, allenatevi, e vedrete che avrete tanti tanti risultati in più, rispetto a giocare, appunto, in modo più, meno ragionato, come in un matchmaking normale. Da gioco per oggi è tutto, vi ringrazio per aver seguito il video, lasciate qualche commento sulle prossime tattiche che potete vedere, e vi consiglio di andare a vedere anche gli altri video qui sul canale di CSQItalia, che sono veramente pieni di contenuto utilissimo sul mondo di Counter Strike Global Offensive italiano e internazionale. Da gioco per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!